Ciao, sono Fabio, ho 24 anni, mi sono trasferito a Londra a ottobre del 2015. Precedentemente mi sono trasferito a Londra nel 2012 tramite Living London Way, con cui mi sono trovato veramente bene, perché questi ragazzi, te Antonio, in particolare, sono fantastici, sono veramente l'esempio di come le aziende che fanno questo tipo di servizio, che offrono questo tipo di servizio, dovrebbero essere sempre, cosa che purtroppo la maggior parte delle volte non avviene. Quindi un applauso a questi ragazzi che vi seguono dal punto A al punto Z, veramente siete un'agenzia veramente responsabile, fidata e che ha dei solidi principi e vi fa raggiungere i vostri obiettivi senza, with no bullshit, senza cazzate nel processo. Nel 2012 non mi andò molto bene per il semplice fatto che non ero pronto per Londra. Pensavo di esserlo, sono venuto che avevo 20 anni e non avevo la maturità necessaria. Ero una di quelle persone contro cui combatto, sono stato una di quelle persone contro cui combatto adesso, che diceva che Londra non è il paese dei balocchi, Londra è cambiata, non c'è lavoro come dicono, eccetera, eccetera. No more bullshit, basta con le cazzate. Sicuramente a Londra il lavoro c'è, c'è per tutti. Chiaramente dipende da qual è la vostra specializzazione, in che cosa state cercando, in quale campo state cercando lavoro. Non è vero che a Londra il lavoro non c'è. C'è un ambiente molto competitivo, questo è vero, e dovete prepararvi a battervi a ferro e fuoco con i vostri competitor, sono vero contro chi cerca di sorfiarvi il lavoro, di sorfiarvi una promozione. A Londra gli amici si contano veramente sulle dita di una mano. Fate le vostre considerazioni prima di scegliervi un amico, perché spesso sono persone che vogliono semplicemente arrivare ad un determinato punto prima di voi e vi sfruttano. Quando sono arrivato qui mi sono affidato a Airbnb per la prima decina di giorni circa e poi abbiamo cominciato da subito a cercare di fare delle viewing, quindi andare a vedere delle case per cercare, dico abbiamo perché sono venuto qua all'epoca con un'altra persona e quindi ci siamo cercati un attimino di smazzare il lavoro in due e abbiamo cercato subito lavoro oltre alla casa, questo è molto importante. Noi siamo arrivati già con i curriculum tradotti e il mio amico è riuscito a fare comunque una revisione per un inglese decente, perché l'inglese che ci insegnano a scuola purtroppo non sempre è quello poi quello che corrisponde all'inglese attuale, usato tutti i giorni. Quindi vi consiglio, visto che Living Land Way offre un ottimo servizio di traduzione per i curriculum, non sottovalutate questo aspetto perché è molto importante. Se non avete un numero inglese aspettate a chiaramente stampare i curriculum dall'Italia perché chiaramente serve un numero inglese, quindi la prima cosa che dovreste fare secondo me quando arrivate qui in Inghilterra è quella di fare la Oyster Card per Londra cioè la carta dell'abbonamento per i mezzi da zona 1 a zona X, dove X corrisponde a dove state vivendo comunque dove pianificate di trovare lavoro e cosa più importante è la sim inglese. Ora io personalmente ho tre perché secondo me ha dei piani molto vantaggiosi per noi per quanto riguarda il 4G, quindi la connessione mobile perché è quella che vi tiene attaccate all'Italia. Sì è vero ci sono molti wifi, sì è vero probabilmente dove sarete a casa avrete il wifi ma anche quando siete in giro per trovare i posti, per andare all'interview di lavoro è sempre bene avere una connessione funzionante per raggiungere, per muovervi attraverso Londra. Per quanto riguarda il lavoro, io in due giorni ho lasciato parecchi CV al terzo giorno avevo il lavoro, quindi non ho cercato io sono un videomaker, un videographer come potete notare da un pochino di attrezzatura qua e quello con cui sto girando e quindi non ho cercato subito nel mio campo perché il punto è ottimizzare i soldi a disposizione e garantirvi la permanenza qua. Per tutto il resto c'è tempo. Per quanto riguarda il mio lavoro, ho lavorato da Slug & Lettuce a Clapham Junction quindi è in sostanza un pub, tavola calda, di una catena che si chiama Stonegate che è una delle più grosse qui in Inghilterra. La paga era il National Minimum Wage, quindi il minimo sindacale che si attestava ai 6,70 sterline all'ora. Comunque troverete dei posti che pagano il National Living Wage che sarebbe un pochino più alto, penso che sia intorno ai 7,25 l'ora. Lì ci sono stato un po' di tempo, giusto il tempo che mi serviva, che ci serviva per stabilizzarci dopodiché con quest'altra persona ho fatto un ragionamento e ho detto bene, adesso posso permettermi di stare a casa un mese e cercare assolutamente lavoro nel mio campo perché questo lavoro mi sta uccidendo dentro. Sono stato un pochino viziatello sotto un certo punto di vista e ho rischiato, ho rischiato e io non sono l'esempio da seguire assolutamente perché avrei dovuto aspettare di più, prendere più soldi e metterne via di più per essere sicuro di potermi permettere tempo a casa, però ho voluto provare. Ho voluto provare e ho trovato un lavoro come video editor, quindi montaggio in sostanza, per una compagnia in centro Londra che aveva lo studio a Woodgreen, quindi molto distante da casa mia perché io abitavo nella zona di Wandsworth, quindi SV18, che è il codice postale di Wandsworth, N22, quindi dall'altra parte di Londra per quanto riguarda il mio lavoro. Lavoravamo spesso tuttavia in centro Londra in un hotel a South Bank, quindi quando ero lì per fare editing mi andava bene, quando dovevo andare in studio era una bella mazzata perché era circa un'ora e venti di mezzi e a volte capitava che c'erano delle consegne e quindi dovevo stare magari in ufficio fino alle dieci, arrivavo a casa alle undici e mezza, ero stanchissimo, mangiavo qualcosa al volo, a letto, perché il giorno dopo dovevo svegliarmi alle cinque e mezzo, sei, far la doccia e tutto quanto per poi arrivare a lavoro alle otto. Quindi è stata dura, ho stretto i denti, il mio capo, non voglio sbilanciarmi troppo per motivi che immaginerete, però diciamo che non era la situazione lavorativa ideale. Ho resistito fino a maggio, nel frattempo anche se avevo un lavoro ho continuato a fare application online tramite siti come film e tv pro, ho avuto un interview a gennaio mentre lavoravo ancora, o a febbraio, mentre lavoravo ancora per questa compagnia e in pratica sono arrivato all'ultima selezione però purtroppo non mi hanno preso. cercate di non abbattervi perché per esempio per me il fatto di non avermi preso è stata una benedizione perché ho continuato a lavorare lì, ho messo da parte soldi, non uscivo praticamente mai, non prendevo mangiare take away, guardavo i prezzi delle cose quando facevo la spesa, quindi cercavo di prendere sempre le cose meno costose e ha pagato alla fine, ha pagato perché quando questa compagnia mi ha richiamato a maggio mi ha chiesto guarda vuoi fare questo vuoi fare questo lavoro come freelancer paghiamo x? Io ho detto questo, l'ho riferito al mio capo, gli ho detto che avevo bisogno di questi soldi extra anche perché io su carta ero lì come freelancer quindi non ero, non avevo un contratto come diciamo impiegato, quindi glielo ho detto al mio capo però il mio capo ha reagito molto male e mi ha detto benissimo se tu vuoi fare questo lavoro non disturbarti a tornare indietro. In quella settimana io dovevo andare in Italia, sono andato in Italia, ho parlato con i miei genitori, mi hanno dato un consiglio e ho detto vabbè sai cosa c'è? Alla fine come video editor sto prendendo leggermente più di quanto prende un cameriere con le tip. quindi ho detto vabbè proviamo a vedere come va, magari mi va bene e un'altra volta ho rischiato, non sono l'esempio da seguire, normalmente a Londra non va così bene. Ho provato e sono andato a fare questo lavoro, gli sono piaciuto molto, gli è piaciuto il risultato del lavoro, gli è piaciuto il workflow lavorativo con me, la giornata lavorativa con me e mi hanno detto guarda abbiamo questo progetto qui per il civil service che sta facendo questo progetto di learning, qui ci sono un sacco di interviste da fare eccetera eccetera, se vuoi stare con noi noi siamo molto felici. Quindi sempre su base freelance ho cominciato a lavorare con loro e sono freelance con loro da maggio. ora quando sto registrando il video è il 3 ottobre e vi dico ci sono stati periodi, magari una settimana dove ho lavorato un po' meno, ci sono stati mesi dove ho lavorato un po' meno, però sto lavorando parecchio con progetti molto interessanti, fra l'altro con il civil service per quanto riguarda le persone disabili o altri programmi di learning per il civil service. Quindi a me è andata sostanzialmente bene. Quello che però vi voglio consigliare è pianificate tutto, specialmente se non avete un lavoro in tasca, non fate quello che ho fatto io per il semplice fatto che non è detto che vi vada bene. Comunque a Londra c'è un sistema di crescita molto implementato, quindi se voi arrivate a fare il lavapiatti, un domani potreste fare lo chef piuttosto che il cameriere, piuttosto che un domani diventare manager. Queste non sono storie lontane di persone che non incontrerete mai della serie. Io ho il cugino che una volta... No, ve lo sto dicendo in maniera molto sincera. Questa cosa è nella cultura inglese, cioè è difficile che tu entri come cameriere e dopo un anno sei lì come cameriere. Se questo accade vuol dire che sei veramente una persona che dorme nella sua vita proprio e ha dei problemi di fondo. Però in generale c'è un percorso di crescita abbastanza delineato. Poi anche come crescita personale voglio dire imparate un'altra lingua. Cercate solo più che altro di non farvi sfruttare perché essendo un ambiente molto competitivo troverete sempre persone al di sopra di voi, dal manager a quello che sta tanto così sopra di voi che cercheranno un attimino di take advantage of you, cioè di sfruttarvi in un modo che vada a loro vantaggio. Quindi sì, questa è la mia esperienza a Londra. Per il momento... Incrociamo le dita, incrociatele anche voi per me. Per il momento è stato più che un successo perché se penso alla vita che avevo in Italia a rincorrere i clienti, dover sempre fare il prezzo più basso di qualcuno, poi bisogna vedere se ti pagano, tutte queste cose. Purtroppo a me perlomeno non è andata molto bene. Qui ho avuto un cambiamento di vita, un miglioramento netto. Ho comprato... Mi ricordo quando ho iniziato a lavorare con questa azienda io mi facevo tutti... tutte le volte che c'erano delle riprese io dovevo andare fino a Brighton a prendere la loro attrezzatura, da Brighton tornare indietro a Londra, fare lo shooting e poi la sera riportare l'attrezzatura da loro. Vi parlo di borsoni, quattro borsoni di queste dimensioni, piene di roba. Tanto che anche un mio amico che è uno di quelli irriducibili del continua, 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 lavora duro, lavora duro, lavora duro e a un certo punto mi fa Fabio non puoi andare avanti così. Eppure l'ho fatto. Ho fatto così un mese, ho fatto così due mesi e poi ho messo via i soldi, non uscivo mai ancora, di nuovo lo voglio ripetere, risparmiavo. Ho messo via dei soldi e sono riuscito a comprarmi la mia attrezzatura. Adesso posso... il mio daily rate, cioè il mio prezzo giornaliero è chiaramente salito perché uso la mia attrezzatura. Mi sono comprato un MacBook, mi sono comprato un microfono, mi sono rilisato la mia stanza, ho comprato l'attrezzatura che vedete con cui sto girando. Piano piano continuo a crescere. Io per fare le stesse cose in Italia non so neanche se sarei riuscito in qualche modo a farle ma comunque sicuramente non con queste tempistiche. Un saluto ai ragazzi di Living London Way che stanno facendo un lavoro veramente fantastico ragazzi. Tu specialmente Antonio che hai avuto l'idea assieme al tuo partner, stanno facendo un servizio che è veramente qualcosa di fenomenale, pregevole. Sono dei ragazzi giovani, sono onesti. Noi siamo molto spesso spaventati dall'onestà perché pensiamo che ci sia sempre qualcosa dietro. Ma vi assicuro che è un'agenzia seria. Stanno molto... gli sta molto a cuore il vostro risultato perché per loro avere un feedback positivo dimostra quanto l'azienda riesce a fare quello che fa e vi assicuro che dal trovarvi casa al tradurvi le cose al darvi una mano anche a livello personale una consulenza sul che cosa devo fare una volta arrivato a Londra tutte queste cose sono cose o d'oro d'oro che tante persone prima di me per esempio non hanno avuto perché non c'erano servizi di questo tipo vi assicuro che sono persone oneste vi assicuro che io mi sono trovato bene e niente un saluto a tutti e ci vediamo magari alla prossima magari farò un'altra intervista dove parlerò tantissimo e vi dirò che sono diventato milionario speriamo e invece no mai successe mai nella vita ciao ragazzi ciao